Pettine è bello, il nuovo libro dell'ex sindaco di Comiso Pippo Di Giacomo è stato presentato ieri pomeriggio al centro studio di Feliciano Rossitto. Il libro si può considerare come un itinerario narrativo della Comiso degli anni 70, in cui i personaggi che si muovono all'interno dell'impianto narrativo sono appartenuti realmente alla vita dell'autore e considerati dallo stesso i veri protagonisti della sua vita. Di Giacomo ha saputo raccogliere e analizzare personaggi e momenti che hanno caratterizzato il periodo della maturità, ripercorrendo con ironia la sua vicenda personale, in modo tale che anche il lettore si possa sentire parte della storia. Pettine è bello dunque risulta una biografia, un modo di guardarsi indietro dell'autore, non in prima persona ma attraverso le persone che abitano nella cittadina casmenea. La presentazione del libro è stata curata dal critico letterario Carmela Rezzo, con la collaborazione del Presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, Giorgio Chesseri.